Musica Fabrizio Angelini, Presidente della Società Italiana Nutrizione, Sport e Benessere. Io ho avuto il pregio di moderare la sessione relativa alla nutrizione, le correlazioni fra la nutrizione, lo sport e l'esercizio fisico. Ho apprezzato molto il livello delle relazioni, in particolare quella del professor Morgan che è uno dei massimi esperti di nutrizione dello sport nel mondo. E soprattutto mi è piaciuto vedere la correlazione che oggi viene sempre più evidenziata in letteratura tra la nutrizione e l'esercizio fisico nelle patologie neoplastiche, anche in soggetti adulti e dà anche l'attenzione al possibile rischio di morte improvvisa nei soggetti che si dedicano allo sport amatoriale come dei professionisti. Purtroppo questa è un'emergenza che noi viviamo quotidianamente nei nostri studi, nelle nostre strutture, in quanto oggi il cinquantenne che magari non ha mai fatto sport e vuole diventare un Iron Man. Dunque l'esercizio fisico abbinato alla buona nutrizione è sicuramente terapia e prevenzione primaria, ma anche terapia di molte patologie cardiovascolari e neoplastiche, ma quando, come in tutte le cose si accede, l'esercizio fisico, anche a volte l'uso indiscriminato di supplementi e di una nutrizione di frontiera può rappresentare addirittura un rischio per la salute. Questi sono, secondo noi, punti su cui dovremo discutere e confrontarci nei prossimi anni e il congresso oggi di Firenze ha sicuramente portato un contributo a una visione assolutamente obiettiva e non, diciamo, di parte, perché purtroppo a volte chi si è sempre occupato di sport o di nutrizione fa un po' come, per dire, la Toscana e i Guelfi e i Ghibellini. Invece dobbiamo avere una visione oggettiva, consigliare la giusta nutrizione e la giusta attività fisica nelle situazioni fisiologiche e di divertimento come lo sport e anche purtroppo nelle condizioni patologiche.